Ce l'ho fatta, sono in cima al Vesuvio, quello dietro è il cratere peperoni in agrodolce stasera per contorno si fa tutto in casa, tutto due pagine su Tilde Tilde ha imparato a cucinare come gli altri, imparano a camminare e a parlare noi non abbiamo imparato, non siamo andati alla scuola di cucina non abbiamo fatto la scuola di cucina è la tradizione, è una cucina unica, nel senso che è la cucina della mia famiglia ho cominciato a lavorare come archeologa poi mi sono sposata con mio marito sono venuta a Velia o era l'archeologia o la famiglia siccome i miei figli e ritenendo un lavoro ancora a Velia quando le ultime due figlie, Vanda e Francesca si sono iscritte all'università e anche loro sono partite per Milano io ho ripreso i libri di archeologia in mano ma erano stati fatti passi da Gigante in tutti quegli anni mi sentivo fuori tempo, fuori luogo quindi mi sono riscritta all'università ed ho fatto la laurea in conservazione e beni culturali